Io credo che sia invece al di là dello specifico del 68 di cui parlerò tra poco, credo invece che sia una prospettiva molto interessante per arricchire anche l'interpretazione di molti processi storici e sociali, perché lo sport ovviamente è un fenomeno di massa straordinariamente coinvolgente e quindi non può essere ignorato anche in una lettura dei fenomeni storici. Nello specifico io vi propongo qualche breve riflessione a partire appunto dal lavoro di ricerca che ho fatto con Giacchino Toni che è qui presente e che in realtà noi abbiamo lavorato sul lungo 68 perché anche per il 68 sportivo come per molti altri ambiti si può parlare di un lungo 68, per l'esattezza diciamo che il 68 nello sport inizia nel 67 e si prolunga fino al 78, il mondiale di calcio argentino del 78. Allora per inquadrare l'argomento schematicamente occorre soffermarsi un attimo su cos'era lo sport prima del 68, cioè qual era l'intreccio tra le dinamiche politiche e sociali e lo sport. Diciamo che lo sport in generale era rappresentato e di fatto era uno spazio neutro, chiuso e pacificato, cioè uno spazio posto al riparo da qualsiasi elemento destabilizzante, da qualsiasi forma di contestazione. Io ho riportato qui una formula, lo sport agli sportivi, cognata da Giulio Nesti che è stato dal 46 al 78 il dominus del CONI, più che presidente, un vero padre padrone, un Andreotti dello sport in sostanza, che questa formula è lo sport agli sportivi, che vuol dire lo sport è un fatto ludico e tecnico, punto. Dello sport si devono occupare solo gli addetti ai lavori, gli atleti, i tecnici, i giornalisti sportivi, purché non parlino di politica. Ecco quindi questa idea di una cittadella separata dal resto della società e che non doveva assolutamente essere toccata dai conflitti. In realtà lo sport, oltre ad essere di per sé un fatto evidentemente un fenomeno sociale e politico come ogni espressione umana, in realtà come sapete lo sport invece era stato abbondantemente utilizzato dal potere politico. Allora i casi più noti sono quelli evidentemente del fascismo e del nazismo, ma in realtà lo sport è stato un fortissimo strumento di propaganda durante tutta la guerra fredda. Oppure se pensiamo al caso italiano, le Olimpiadi del 1960 a Roma sono state una vetrina per la democrazia micristiana, per mostrare l'Italia del miracolo economico e così via. Quindi lo sport in realtà era funzionale al sistema politico e politico, in modo anche ipocrita, negandolo o meno in modo eclatante come nel caso del fascismo e del nazismo, lo sport era questo. E ho voluto segnalare anche in via introduttiva che al di là di questi due aspetti, diciamo che poi sono in realtà complementari, è esistito anche nel corso del 1900, uno sport di classe, cioè dei tentativi da parte del movimento operaio socialista di fare dello sport anche un terreno di lotta politica, di cercare di costruire organizzazioni, strumenti, pratiche alternative rispetto a quelle dominanti. Penso ad esempio nel caso italiano, a cavallo della grande guerra, ci sono state delle esperienze molto interessanti, ciclisti rossi, una rivista che si chiamava Sport e proletariato e così via. Non mi posso soffermare su questo, dico solo che però si trattava di fenomeni episodici e anche relativamente circoscritti dal punto di vista geografico e peraltro soffocati precocemente dal fascismo. Quindi invece cosa succede con appunto il 68 e mi limito a questo anno? Il conflitto irrompe anche nello spazio dello sport, la contestazione riconfigura lo spazio dello sport, lo risignifica come uno spazio invece aperto, fluido, conteso, che viene attraversato da una serie di gesti, alcuni che hanno una risonanza globale clamorosa, pugni chiusi di città del Messico, è l'esempio più eclatante, ma anche punteggiato da una serie di mobilitazioni che riguardano l'Italia ma tutto il mondo, che attraversano anche i luoghi simili dello sport, gli stadi, le piscine, i palazzetti dello sport, sono attraversati da movimenti di contestazione o da figure che cercano di portare nello sport qualcosa di diverso. E appunto questi movimenti si intrecciano con le istanze del 68, già questo fatto che ho appena indicato è molto significativo perché noi sappiamo che una delle caratteristiche del 68 è la rottura della separatezza di spazi tradizionalmente chiusi, impermeabile alla contestazione, la scuola, le istituzioni totali, la chiesa, lo sport rientra in questo tipo di fenomeno, cioè una realtà chiusa che improvvisamente si trova sconvolta da una serie di eventi, di movimenti. E poi ci sono anche altri motivi nel 68 sportivo, come vi dirò dopo, l'antiautoritarismo, la partecipazione dal basso, la richiesta di spazi di democrazia e così via. Poi un altro elemento molto importante è che i movimenti nello sport contribuiscono a acuire una crisi di legittimazione delle principali istituzioni politico-sportive, quelle che detenevano il potere nello sport e in particolare, in primo luogo, quella più importante che sono le Olimpiadi, che erano già caratterizzate allora da alcuni fenomeni che poi si sono diventati ancora più esasperati, cioè il gigantismo, queste enorme termesse che erano e sono le Olimpiadi nei quali si intrecciavano interessi economici di vario genere, estremamente spettacolarizzati, siamo anche nell'età in cui la televisione comincia a trasmettere in mondo visione, quindi tutti vedono, e quindi diciamo quello che può essere definito un po' una deriva dello sport e questi movimenti dall'interno e dall'esterno criticano proprio questo tipo di istituzioni. Poi altre questioni alimentano una serie di riflessioni critiche sullo sport, escono dopo, se faccio tempo vi farò vedere due o tre casi, di pubblicazioni, di ricerche, di carattere generalmente sociologico ma di taglio molto militante, che pongono in discussione la concezione tradizionale dello sport e cercano invece di portare l'attenzione del mondo sportivo e non solo, una diversa concezione della pratica sportiva e del modo di pensare e immaginare lo sport. E infine ovviamente questo non avviene così dolcemente, c'è uno scontro molto forte con l'establishment politico sportivo che si chiude a riccio, che rifiuta qualsiasi dialogo, anche qualche minima istanza riformatrice e poi infine, come dicevo prima, il 68 rappresenta la via di un lungo 68 sportivo. Il 68 inizia con un episodio molto famoso che è il rifiuto da parte di Cassius Clay di arruolarsi nell'esercito americano ed è chiaramente un segno di protesta nei confronti della guerra del Vietnam. Era legato poi alla vicenda personale di Clay, la sua conversione che conoscete io non insisto su questo, ma soprattutto la cosa importante è che questa vicenda si intreccia immediatamente con il più generale movimento per i diritti civili e contro la guerra del Vietnam. Uno dei primi a raccogliere il messaggio di Clay è Martin Luther King che in un intervento pochi giorni dopo dirà io lodo Cassius Clay per quello che ha fatto e invita i giovani, come vedete, a dichiararsi obiettori di coscienza. Meno noto ma importantissimo invece è questa vicenda che è quella che porta i pugni chiusi di Città del Messico. Dunque la vicenda dei pugni chiusi di Città del Messico inizia alla fine del 67 quando le pantere nere invitano gli atleti afroamericani a boicottare le Olimpiadi del Messico e questo messaggio viene raccolto da Harry Edwards che era un ex atleta, un sociologo, docente tra l'altro di Tommy Smith e di altri atleti all'Università della California che costituisce questo comitato olimpico per i diritti umani che raccoglie un numero notevole di atleti afroamericani anche di altissimo livello uniti da da quest'idea fondamentalmente immaginare forme di protesta nei confronti della discriminazione dei neri anche in ambito sportivo e più in generale legarsi a quel movimento antirazzista per i diritti civili di cui dicevo prima. Gli obiettivi, la piattaforma, ve la scorro molto rapidamente, prevedeva tutta una serie di argomenti. Si chiedeva che fosse restituito il titolo a Mohamed Ali, cioè Clay era stato cacciato, gli hanno tolto la licenza di pugile. La fine della discriminazione dei neri all'interno del mondo dello sport è anche un'altra cosa molto importante. Sottolineavano questi atleti, i grandi atleti neri americani, sottolineavano il fatto che non volevano più essere utilizzati dal sistema americano che discriminava la maggior parte dei giovani neri che facevano sport. Poi quando c'era il campione naturalmente lo ingaggiava, lo sosteneva perché arricchiva il medagliere olimpico statunitense per poi mollarlo appena aveva, cioè è proprio come dei limoni da spremere, degli uomini in spettacolo. Quindi c'era il rifiuto di questa anche strumentalizzazione della loro posizione. Poi il tema della Sudafrica su cui torno dopo e anche chiedevano la dimissione di Brandage che era il presidente del comitato, un altro personaggio incredibile, Otto Agenario che è stato anche lui un padre padrone del CIO, cioè del Comitato Internazionale Olimpico, che aveva note simpatie razziste antisemite sin dalle Olimpiedi di Berlino. Lui era quello che aveva sostituito la persona che si era rifiutata americana e che era contro la partecipazione degli Stati Uniti alle Olimpiedi di Berlino 1936 per capirci. Lui invece è quello che ha detto no, no, ci andiamo perché i nazisti bisogna andarci, bisogna andarci. Ecco, il soggetto era questo. E ho un accenno brevissimo, vedete che questa cosa ha degli effetti immediati, dei riflessi immediati anche in Italia. Questa è una pagina del Discobolo, che è il giornale dell'UISP. E poi vi dirò, anche se ho tempo, brevissimamente, appunto i riflessi straordinari che ha avuto queste vicende sull'associazionismo sportivo in Italia, per dire come questo movimento poi prende piede. E infine, a ridosso dell'inizio dell'Olimpiede, si pongono un interrogativo. Cosa facciamo? Boicottiamo ora? Cioè non ci andiamo? Oppure andiamo per fare casino lì, cioè per protestare, per portare? E alla fine, a stretta maggioranza, gli atleti afroamericani decideranno di andare all'Olimpia e di riportare. Inizialmente si parlava solo di portare il distintivo del Comitato Olimpico per i Timane o una fascia nera. Poi vedremo che, appunto, come sapete, Tommy Smith e Carlos hanno fatto qualcosa di più. L'altra questione è quella sudafricana, che sempre si sviluppa nel 68. In Sudafrica c'era un razzismo spaventoso anche nel campo dello sport, ovviamente. Nel 1964 il Sudafrica era stato escluso dall'Olimpiede di Tokyo. Poi era stato riammesso nel febbraio del 1968 con una decisione assurda e tra l'altro semi-illegale presa dall'esecutivo del CIO, che era composto da persone ultraconservatrici che hanno condizionato la decisione di riammissione. Questo ha prodotto immediatamente una protesta enorme. Il primo a muoversi è stato il Consiglio africano dello sport, quindi moltissimi paesi africani hanno detto che non andiamo in Messico se Sudafrica c'è. A questi si sono uniti l'Unione Sovietica, la Cina, Cuba e altri stati. Questo è importantissimo, questo è il più antico movimento antirazzista sudafricano in ambito sportivo, guidato da Denis Brutus, che era un militante poi costretto a lasciare Sudafrica e dall'Inghilterra, ha organizzato tutta una serie di manifestazioni. Sono sviluppate manifestazioni, come vedete qui, qualche esempio, un po' in tutta Europa, anche atleti, qui c'è di nuovo Tommy Smith e altri che hanno aderito e alla fine tutto questo insieme di movimenti ha portato il CIO, è stato costretto a fare retromarcia e quindi il Sudafrica è stato escluso dalle Olimpiadi. Un'altra cosa poco nota, perché vedete come il 68 sportivo in realtà tocca sostanzialmente tutti i momenti principali delle dinamiche del 68. Nel maggio francese c'è stato questo episodio che è l'occupazione della federazione calcistica francese da parte di calciatori, non grandi nomi, ce n'era uno che era un ex calciatore, ma calciatori delle serie minori, che dicono molto esplicitamente due cose. Prima noi vogliamo collegarci ai movimenti del 68, siamo dentro il movimento del 68, giovanile, eccetera. La seconda è lo slogan il calcio e i calciatori, che non ha niente a che vedere con lo sport e gli sportivi, cioè non ha un carattere corporativo, è la richiesta di liberare i calciatori delle serie minori da una sorta di semischiavitù nella quale si trovavano rispetto alle società che facevano di loro quello che volevano. Questo è il manifesto che si lega poi appunto a questi, a mettere una bandiera rossa sulla sede, erano sostenuti anche da un giornale sportivo che si chiamava Mirroar Sport, che era vicino al Partito Comunista, quindi avevano creato anche una serie di legami. E poi, sempre a ridosso del 68, esce una rivista partisan pubblica un numero dedicato a sport, cultura e repressione, che verrà tradotto anche in Italia, che è una di quelle esperienze di critica dello sport, a cui facevo cenno prima, c'è un numero di questa rivista militante, dell'estrema gauche, insomma francese, che è dedicata esplicitamente a rapporto tra lo sport, la cultura e la repressione, tutta una serie di argomenti che ovviamente non posso riassumere. Un altro passaggio importante è la primavera di Praga, questo che vedete è Zatopec, è Emil Zatopec, detto la locomotiva umana, ovvero il più grande atleta, probabilmente uno dei più grandi atleti dei paesi dell'est negli anni 50, aveva stravinto medaglie ed era diventato un mito dello sport del blocco sovietico, e Zatopec insieme a Kaslavska, questa invece è una giovane ginnasta che vincerà diverse medaglie olimpiadi del Messico, firmano il famoso manifesto delle 2000 parole, che è degli intellettuali, no? Filo Dubcek, per capirci, e poi in agosto, durante l'invasione sovietica, Zatopec sarà in prima fila ad arrengare i giovani contro l'invasione del blocco sovietico di Praga, e vedete che era un duce che era molto legato a loro, e poi sempre a proposito di Praga, una cosa curiosa che mostra come le passioni sportive possono essere veicolo di discorsi politici. Nel 69, qui siamo un anno dopo, la nazionale di hockey su ghiaccio cecoslovacca batte la nazionale russa, e da allora non c'erano state proteste di piazza, a causa della repressione sovietica, per la prima volta, c'è una vera e propria insurrezione popolare, vengono assalite le sedi dell'ambasciata dell'Unione Sovietica, della compagnia aerea e così via. Cioè, lo sport diventa un pretesto, ma anche un motivo per alimentare una protesta antisovietica che era stata completamente, come sapete, soffocata. E poi, vabbè, c'è il famoso maggio 68, preceduto dalla strage di Piazza del Tre Cultura, io non mi soffermo perché penso che sia noto a tutti, e il famoso, ecco i famosi pugni. Certamente questa immagine, probabilmente, adesso non voglio esagerare, ma per quanto riguarda l'immaginario collettivo, è una di quelle più potenti in assoluto, no, del 68. Credo che per la sua anche particolarità, peculiarità, non sono studenti, non sono operai, ma sono degli atleti, dei grandi atleti che improvvisamente, in maniera anche sconvolgente, compiono questo gesto, e devo dire che anche il povero australiano, secondo classificato, forse non lo so se lo sapete, anche lui aveva, no, lui aveva sceso con lo stemma del Comitato Olimpico dei Ritti Umani, e l'ha pagata durissima, questo atleta non ha più potuto fare sport in Australia, è stato boicottato completamente, perché lui aveva aderito. Ma non solo lui, perché se andate, se si regolano le cronache dell'epoca, nei giorni successivi, moltissimi atleti, bianchi e neri, bianchi di colore, aderiscono alla protesta di Smith e di Carlos e soprattutto protestano contro l'esclusione dalle Olimpiadi, che è costata anche loro carissima, perché questi due atleti, che erano dei campioni straordinari, hanno avuto la carriera completamente troncata e sono stati emarginati sul piano sportivo in maniera incredibile. E quindi questo era appunto un simbolo del 68. Chiudo velocemente, dicevo prima dei riflessi del 68 sul mondiale, sulla situazione italiana, ce ne sono diversi, iniziano una serie di contestazioni, mi limito a questo per motivi di tempo, dicevo dell'associazionismo sportivo, questo è il discobolo, la rivista del WISP, questo è Stadium invece, che è la rivista del centro sportivo italiano, cioè l'altra grande associazione sportiva legata alla democrazia cristiana, mentre invece il discobolo è WISP e quindi legato all'area della sinistra. Bene, in queste due associazioni il 68 provoca davvero un terremoto, cambia tutto. L'WISP in entrambi i casi da organismi semplicemente collaterali ai partiti, cioè in funzione propagandistica, acquistano invece un profilo autonomo, sviluppano un discorso molto critico sullo sport e anche lo stesso CSI legato alla democrazia cristiana, è incredibile leggere alcune pagine del giornale, sembra di leggere se uno non sa che stadio, sembra di leggere una roba della sinistra che sta parlamentare, cioè sono investiti in pieno dalla questione del dissenso cattolico, anche loro evidentemente. Soprattutto dovendo interloquire con dei giovani, è evidente che questi ambienti sportivi non possono ignorare quello che sta succedendo nelle scuole, nelle fabbriche eccetera eccetera. Quindi veramente fanno una rivoluzione, una piccola ma insomma anche molto profonda rivoluzione di tipo culturale al loro interno. Quindi cambiano le categorie, cambiano i linguaggi, viene criticata la concezione esasperata dello sport come puro ricerca della prestazione del record, viene criticata la cultura del corpo che viene veicolata dalle principali agenzie sportive, fino a mobilitazioni concrete, tutta una serie di mobilitazioni che sono state promosse da questi e insieme, sia il WISP che il CSI ma poi voglio citare un'altra piccola esperienza, sono molto influenzati da prima di tutto da sport e repressione che era quel testo tradotto in italiano nel 70, quel testo francese di Partis anche dicevo prima. Poi gli altri due testi fondamentali sono il calcio come ideologia di Vinnai e le olimpiadi dello spreco e dell'inganno di Ulrike Prokop. Si tratta di studiosi che si ispirano alla scuola di Francoforte, quindi usano categorie di carattere sociologico marxista e risunto dalla scuola di Francoforte per fare un'analisi critica del mondo dello sport e per proporre anche appunto come dicevo prima una concezione alternativa. Sono testi che letti oggi hanno anche alcune forzature ideologiche e soprattutto probabilmente sottovalutano diciamo come dire il fatto che lo sport è qualcosa veramente che appassiona, che è un aspetto emotivo, che è un aspetto di coinvolgimento, che c'è un atteggiamento un po' rigido, a volte un po' come si usava a dire all'inizio del Novecento antisportista, cioè vedere lo sport solo come una diversivo rispetto alla lotta di classe e cose di questo genere. Per noi in realtà sono ricchissimi di spunti che hanno poi influenzato e arricchito la riflessione anche in Italia. E chiudo con, questo forse un po' l'inizio del 68, siamo alla fine del 68 italiano, dalla scala di Milano a Sanremo cosa vuol dire? Vuol dire che c'era da poco che era successo il famoso episodio della contestazione del movimento studentesco alla scala di Milano. A Sanremo si svolge questo incontro di Pugilato, famosissimo e benvenuti, Fulmero, un incontro fondamentale, vedete che si svolge al Teatro Ariston dove si svolge il festival di Sanremo. Quindi viene organizzata una manifestazione di protesta che su due aspetti, intanto sul prezzo dei biglietti che erano proibitivi, 50.000 lire, era una cifra enorme per l'epoca, no? E poi soprattutto di nuovo, insomma, la critica al consumismo, un certo modo di intendere spettacolarizzare tutto, compreso, eccetera, eccetera, un po' sui motivi che avevano spinto i giovani alla protesta contro la prima della scala. C'è una carica violentissima della polizia e i giovani erano molto numerosi, riescono però ad ottenere che almeno alcuni biglietti venivano venduti a 5.000 lire. È un contentino che gli dà l'organizzazione, non gli rifergava in realtà nulla, secondo me, di andare a vedere chiaramente. Era solo un modo per dire, anche lo sport è una roba per ricchi e anche i grandi spettacoli sportivi sono una cosa per ricchi, mentre il tema era quello della partecipazione, cioè chiedere che lo sport a tutti i livelli fosse uno sport partecipato, uno sport come diritto di tutti. Ecco, grazie e poi c'è un altro caso. Grazie. Grazie. Grazie.